C'è chi arriva a Bari anche da lontano a piedi, c'è chi è già partito qualche giorno fa e sta lentamente lentamente camminando per arrivare a piedi sempre a Bari proprio nel giorno della festa. Noi abbiamo seguito questo gruppo di pellegrini durante il viaggio di avvicinamento, vediamo questo servizio. La sosta quando possono, per riposare e rifocillarsi basta anche un caffè prima di rimettersi in cammino. Da San Salvo in Abruzzo a piedi fino a Bari per onorare San Nicola, il vescovo che unisce nella fede Oriente e Occidente. La preghiera è che porti la pace dove adesso c'è la guerra. I bambini dell'Ucraina, tutti cattolici, sono i più piccoli della compagnia dei pellegrini che ogni anno si dirige verso il capoluogo pugliese, questa volta con una motivazione in più. Noi abbiamo deciso di fare questo pellegrinaggio di salvare il nostro popolo, nostra Ucraina, nostra patria per chiedere a San Nicola che ci aiuta. Fede incrollabile la loro, trovano alloggio nelle parrocchie o nei B&B, rinunciano a tutto, si muovono nonostante il caldo, ognuno con una motivazione diversa, ognuno una storia da raccontare. Io sono stato operato di tumore, adesso sto benissimo, lo posso dire apertamente a tutto il mondo, grazie a San Nicola, grazie a Dio, perché secondo me ci hanno messo lo zampino. Sono cinque anni che vengo qui, allora voglio dare una grazia a San Nicola per mio nipote. È un percorso di pellegrinaggio che voglio affrontare fino a che il Signore mi dà la forza di venire. Se uno mi offrisse una vacanza io la rinuncerei, preferirei sempre il cammino di San Nicola. Pregano ovunque, sia in cammino che quando si fermano. Qui siamo nella tappa tra Margherita di Savoia e Barletta, una devozione che non conosce confini. Dopo la festa torneranno a casa con i mezzi che li seguono per eventuali emergenze. Alla fine avranno percorso oltre 250 chilometri. Loro non li calcolano mai, la fatica non la sentono, l'importante è solo la meta. Ci ricorda il cammino verso la patria del cielo che è comune a tutti gli uomini. Ognuno di noi vuole raccontare a San Nicola la propria storia, vuole ringraziarlo per i miracoli che hanno ricevuto e tanti vogliono chiedere a San Nicola qualcosa. San Nicola è tutto. La mattina mi alzo la prima cosa, mi faccio il segno alla croce e dico San Nicola, aiutami.